Buona domenica, ben ritrovati con il nostro appuntamento, la nostra rubrica sette giorni di cronaca. Per ripercorrere gli eventi più importanti di questa settimana partiamo parlando di San Giuliano di Puglia che si prepara a celebrare il ventesimo anniversario della tragedia della scuola Jovine alla cerimonia di domani. Il sindaco ha invitato anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i Ministri dell'Istruzione e della Giustizia, Valditara e Nordio. Ma sentiamo Enzo Luongo. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i neoministri dell'Istruzione, Giuseppe Valditara e della Giustizia, Carlo Nordio, sono stati invitati dal Sindaco di San Giuliano di Puglia, Giuseppe Ferrante, a partecipare alla cerimonia in occasione del ventesimo anniversario del terremoto, lunedì prossimo 31 ottobre. Alle 11.32 nel cimitero del paese verranno commemorate le vittime del crollo della scuola Jovine, 27 bambini e la loro maestra. Il primo cittadino del paese ha invitato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma dal Quirinale nella giornata di ieri hanno comunicato che il Capo dello Stato non potrà partecipare. Confermata invece la presenza alla cerimonia del Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e dell'ex Capo Guido Bertolaso, quest'ultimo che gestì la fase dell'emergenza, è cittadino onorario di San Giuliano. Sì, io ho predisposto degli inviti in vista del ventennale, comunque ho avuto risposta positiva, riscontro positiva da parte di Curcio e anche da parte di Bertolaso. Il paese oggi, vent'anni dopo la tragedia, è totalmente ricostruito, sono state realizzate anche strutture mastodontiche, oltre alla grande scuola, la piscina, il museo, il centro polifunzionale, una sala teatro e un laboratorio. Molti spazi restano però inutilizzati, altri rischiano la sopravvivenza. Quella dello spopolamento è una problematica che la sentiamo tantissimo, non solo a San Giuliano ma anche nei paesi limitrofi. Infatti proprio quest'anno abbiamo sperimentato con Bonifro, un paese qui vicino, l'unione delle scuole. San Giuliano, i ragazzi delle medie di San Giuliano frequentano Bonifro, i ragazzi delle elementari di Bonifro frequentano San Giuliano, un modo proprio per evitare le pruriclassi, per dare in modo ai ragazzi di avere un'esperienza migliore all'interno della scuola. Alla vigilia dell'anniversario il sindaco ricorda così quel 31 ottobre di 20 anni fa. Quella giornata io ero appena iscritto al primo anno di Università Economia a Campobasso e lì a Campobasso si è sentita e arrivavano purtroppo i telefonini quel giorno non funzionavano, non potevo raggiungere i miei familiari anche perché io avevo mia sorella che frequentava la quinta elementare nel 2002, che è stata estratta fortunatamente viva alle 19.30 la sera, quindi immaginate dalle 11.32 alle 19.30 poi lei è stata trasferita al bambino Gesù a Roma, però fortunatamente è una delle storie positive. E a 20 anni dal terremoto di San Giuliano di Puglia del crollo della scuola è intervenuta l'Associazione Ingegneria Sismica Italiana. Tanto è stato fatto da allora, ma tanto deve essere ancora fatto per l'adeguamento e la progettazione sismica della scuola. E' l'appello, gli enti locali italiani utilizzino i fondi del PNRR per una prevenzione stabile e non di emergenza. Tonino Danese. Dopo il terremoto di San Giuliano di Puglia fu creata una carta di pericolosità sismica voluta dal Consiglio dei Ministri. Furono aggiornate le normative per la costruzione degli edifici nel nostro paese. Tanto ancora resta da fare in termini di sicurezza in una terra sismica come l'Italia. In occasione del ventennale del terremoto e del crollo della scuola Iovine di San Giuliano di Puglia è intervenuta l'Associazione Ingegneria Sismica Italiana che riunisce professionisti, accademici e aziende. Per quanto riguarda l'adeguamento e la progettazione antisismica nelle scuole, gli enti locali, ha detto il presidente Andrea Barocci, utilizzino i fondi del PNRR per una prevenzione stabile e non di emergenza. Dal 2002 è sicuramente cresciuta la cultura della prevenzione, ma, ha spiegato l'Associazione Ingegneria Sismica Italiana, solo il 7% degli edifici nazionali sono progettati secondo la normativa antisismica in base a quanto riporta il ventesimo rapporto osservatorio civico sulla sicurezza scuola presentato da Cittadinanza Attiva. In Molise la percentuale più alta rispetto a quella nazionale ha continuato con l'11,7% di edifici progettati secondo la normativa 34 su 289 del territorio regionale. A livello generale, considerando anche quanto recentemente accaduto nell'Aula Magna dell'Università Cagliari, è palese come alcuni edifici non abbiano neppure risorse proprie, quindi è difficile immaginarli a resistere nei confronti di un evento sismico. Per l'Associazione Ingegneria Sismica Italiana il problema risorse potrebbe, nel breve periodo, essere superato utilizzando appunto fondi del PNRR. Quest'ultimo ha infatti stanziato grandi cifre per l'istruzione, puntando all'innovazione tecnologica, alla didattica 2.0 e ai laboratori. Non dimentichiamoci, ha rimarcato il presidente Barocci, però che il preziosissimo contenuto ancorché innovativo è inserito in un contenitore che invece nella maggior parte dei casi è obsoleto e che, ha concluso, l'obsoleto contenitore ospita al proprio interno il nostro futuro. Cambiamo argomento. La sanità resta al primo punto dell'agenda politica, non solo regionale, anche la delegazione parlamentare, come del resto annunciato in campagna elettorale, ha più volte ribadito che la priorità resta il decreto molise. Il senatore Costanzo Della Porta, dopo essersi soffermato con il ministro della Salute a Palazzo Madama, ha annunciato che presto aprirà un tavolo tecnico. Sentiamo le sue parole, l'intervista di Andrea Nasillo. Senatore Costanzo Della Porta, parliamo di sanità. Il Molise deve uscire dal commissariamento. Lei ha incontrato il ministro, il neoministro della Salute, Orazio Schillacci. Cosa le ha detto? A margine del voto di fiducia al Senato, dopo l'intervento di Giorgia Meloni, ho incontrato il ministro Schillacci. Così come eravamo rimasti in campagna elettorale con tutta la delegazione parlamentare, ovviamente abbiamo dato seguito a quell'impegno. È stato un colloquio molto cordiale con il ministro, con il quale abbiamo subito focalizzato un punto, cioè un commissariamento sanitario non può durare per 13 anni. È una cosa anomala, peraltro non giustificata. Il commissariamento incide negativamente sull'offerta sanitaria perché purtroppo penalizza l'utilizzo delle risorse finanziarie che possiamo attribuire alle nostre strutture sanitarie. E quindi abbiamo condiviso un percorso. E che cosa faremo? Insieme alla delegazione parlamentare molisana, insieme a tutti gli stakeholders istituzionali, quindi la Regione Molise, la struttura commissariale, la dirigenza dell'Asrem, interloquiremo anche con la conferenza ovviamente dei sindaci, della quale mi onoro di far parte, e insieme alla struttura governativa, non appena sarà completato l'iter di assegnazione anche dell'organico del Ministro della Salute, apriremo la breccia per arrivare finalmente all'emanazione di quello che noi chiamiamo il decreto molise che dovrà porre ovviamente il rimedio a questa fase di stallo della nostra sanità. Voglio dire una cosa, non c'è da mettersi alcuna medaglietta sul petto. Questa è una battaglia, una sfida che dobbiamo vincere tutti quanti insieme. Una sfida che non ha né colori politici né colori istituzionali. La faremo tutti insieme, tutti gli attori protagonisti di questa vicenda noi abbiamo aperto una breccia che sono certo sarà condivisa da tutti gli attori di questa vicenda che ci vedrà uniti insieme per raggiungere il risultato, per ridare ai mulisani una sanità migliore e la sanità che meritano. Si è svolta davanti all'ospedale veneziale di Isernia la conferenza stampa del Partito Democratico e della Casa dei Diritti delle Persone sul nuovo POS, critiche le posizioni degli esponenti DEM. Abbiamo diffidato il commissario alla Sanità Donato Toma, il servizio di emodinamica di Isernia è il fiore all'occhiello dell'intera regione, non può essere chiuso. hanno commentato. Enrico De Simone. Il servizio di emodinamica non può essere chiuso. Aperto così il Partito Democratico del Molise insieme alla Federazione, al Circolo di Isernia e alla Casa dei Diritti delle Persone, la conferenza stampa ai piedi dell'ospedale veneziale, oggetto di discussione il nuovo programma operativo sanitario. Oltre ad aver presentato delle contradduzioni al documento, gli esponenti DEM hanno inviato una diffida all'indirizzo del commissario alla Sanità Donato Toma, del Ministero della Salute, dell'ASREM e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Una battaglia di civiltà averemo dinamica in un territorio, il nostro, che non ha la possibilità di avere un accesso immediato all'ospedale AB di Campobaso. L'ospedale AB che poi ha dimostrato in casi concreti che sono successi a Termoli, che non è sufficiente se a venire incontro a tutte le esigenze del territorio. La provincia di Sernia sta ricevendo una serie di disagi derivanti proprio dalla carenza dei servizi che vengono ridotti e dal personale. Questo significa voler penalizzare un'intera provincia, un intero territorio, privarla dei servizi necessari e fondamentali come quello della sanità, della sanità pubblica in questo caso e quindi decretarne la morte e sicuramente noi questo non lo permetteremo. Non un passo indietro da parte del PD sull'emodinamica, ma l'attenzione è rivolta anche verso la medicina territoriale che va potenziata per garantire sicurezze di prossimità ai cittadini. Ma addirittura dei 90 milioni di euro che erano previsti nei 600 a disposizione del POS, non vengono utilizzati, ma si pensa di poter in qualche modo far atterrare nuove forme di medicina territoriale attraverso i soli 50 milioni di euro del PNRR, dico che insomma qualche problema di qualità della scrittura del programma operativo e della proposta di programma operativo c'è. E cambiano le regole per la gestione del post-pandemia. Il nuovo governo ha annunciato che il bollettino sui dati covid non sarà più giornaliero ma settimanale e ci sarà l'allentamento delle restrizioni ancora in vigore. Intanto in Molise è partita la campagna vaccinale per la somministrazione della quinta dose. Anna Maria Di Matteo A sei mesi dalla sospensione dello stato di emergenza il nuovo governo si prepara a cambiare le regole che fino ad oggi hanno caratterizzato la gestione della pandemia che peraltro sembra essere ormai alle spalle. Il ministro della salute Orazio Schillaci ha annunciato che il bollettino che riporta i dati covid non sarà più giornaliero ma settimanale. Non solo in arrivo un ulteriore allentamento delle restrizioni ancora in vigore come l'eliminazione dell'isolamento degli asintomatici il reintegro del personale sanitario non vaccinato e la cancellazione o sospensione delle multe per gli over 50 che non hanno rispettato l'obbligo vaccinale. Segnali di un ritorno dunque alla normalità a distanza di due anni e mezzo dall'inizio della pandemia. Decisioni su cui è intervenuto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ricordato che non è ancora giunto il momento di proclamare la vittoria finale contro il covid e che è ancora necessario fare uso di responsabilità e precauzione. Anche in Molise quindi il bollettino diffuso giornalmente dall'ASREM sull'andamento della curva pandemica dovrebbe diventare settimanale. Intanto la campagna vaccinale va avanti in regione da ieri è possibile prenotarsi per effettuare la quinta dose di vaccino. L'ASREM ricorda inoltre che è possibile richiedere nei centri vaccinali la somministrazione simultanea del vaccino contro il covid e quello contro l'influenza stagionale in questo caso non è necessaria alcuna prenotazione. Intanto secondo il monitoraggio settimanale diffuso dell'Istituto Superiore di Sanità i Molise calano incidenza e RT la regione passa da rischio moderato a rischio basso. Nel dettaglio l'incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti passa da 304 a 233 mentre l'indice RT scende da 0,95 a 0,73 per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto in ospedale al 3,4% in area medica in calo rispetto a 6,3 della scorsa settimana e del 2,6 per quanto riguarda la terapia intensiva. La cronaca sarebbe stata identificata e ascoltata dai carabinieri la persona alla guida dell'auto che ha investito sulla provinciale Tralarino e Ururi l'uomo di 49 anni ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di San Giovanni Rotondo sentiamo Sarebbe stata identificata e ascoltata dagli inquirenti la persona alla guida dell'auto che lunedì sera ha investito un uomo di 49 anni di Montorio nei Frentani lungo la provinciale che collega Larino al bivio di Ururi le indagini portate avanti dai carabinieri della compagnia Frentana guidati dal comandante Cristian Petruzzella si sono concentrate sia sulle immagini delle telecamere di sorveglianza dislocate a Larino e sia sulla testimonianza di un giovane del posto che era di passaggio nel momento dell'investimento e che avrebbe raccolto i pezzi di carrozzeria dell'auto che è stata così identificata in breve tempo gli inquirenti sono risaliti anche al proprietario che però a quanto pare non era la guida del mezzo lunedì sera guidava un suo familiare è di un paese dell'area Frentana intanto restano gravi le condizioni del 49enne ricoverato all'ospedale di San Giovanni Rotondo in terapia intensiva lunedì era sceso dall'auto forse per controllare un guasto in pochi secondi travolto dall'utilitaria di colore grigio sbalzato in aria forte l'impatto con il suolo trasportato a San Timotio ma la situazione è apparsa da subito seria necessario il trasferimento all'ospedale pugliese a Campobasso il sindaco Roberto Gravina ha annunciato due nuove infrastrutture che potrebbero migliorare il traffico in città e la mobilità dei cittadini novità anche per quanto riguarda la nuova sede della regione per la quale Gravina ha chiesto un consiglio comunale monotematico Giovanni Di Tota un parcheggio a più piani in piazza della Repubblica e un nuovo raccordo per accedere alla tangenziale da via Genova sono le due novità di maggior rilievo che il sindaco di Campobasso ha annunciato a margine dell'ultima seduta del consiglio comunale relative al contratto istituzionale di sviluppo i fondi già stanziati per questo particolare tipo di intervento prevedono infrastrutture che migliorino l'assetto urbano della città in questo caso con particolare attenzione al sistema viario e alla mobilità dei cittadini abbiamo deciso di riprogrammare i fondi ha spiegato Gravina individuando un'area esente da rischi geologici e che non rivestisse particolare interesse storico e culturale per garantire ha aggiunto il sindaco parcheggi da collocare nel centro città e un nuovo collegamento stradale nella zona vicina a via Genova dunque a ridosso del centro è previsto un nuovo raccordo che consentirà di entrare e uscire dalla città con notevoli benefici sul traffico oltre alla strada saranno creati anche percorsi ciclabili e pedonali a pochi metri dal corso invece in piazza della Repubblica è programmata la costruzione di un nuovo parcheggio a più piani gli effetti sarebbero molteplici molte aree di sosta sarebbero sgomberate dalle auto in maniera da poter aumentare le zone pedonali la proposta che è stata approvata ha concluso Gravina è in linea con il finanziamento riconosciuto al comune di Campobasso per l'intervento che è di 18 milioni e 400 mila euro il sindaco ha poi anche lanciato un messaggio diretto alla regione su ciò che la città capoluogo si attende relativamente al progetto della nuova sede degli uffici regionali il nuovo palazzo della regione ha detto Gravina ad essere un'occasione da condividere con la città ponendo al centro di ogni considerazione ha concluso il bene e l'interesse della comunità per questo a breve sarà convocato un consiglio dedicato solo a questo argomento a Palazzo San Giorgio Dante Alighieri diventa un android presentato al Marconi di Campobasso il robot realizzato dagli studenti a novembre andrà unico caso in Italia ad Orlando negli Stati Uniti ma vediamo il servizio Dante una domanda indiscreta chi era il tuo vero amore? Tocchi qui una nota dolente ho incontrato Beatrice per la prima volta a nove anni ad una festa era la primavera del 1274 ed è stato amore a prima vista un salto spazio temporale fino al tempo di Dante Alighieri al Marconi di Campobasso è possibile anche questo questo che vedete è Dantroide la fantastica creatura vestita di rosso con una corona d'alloro sul capo che ha viso morbido muove gli occhi apre la bocca fa l'occhiolino e recita canti della Divina Commedia ovviamente e risponde pure ad alcune domande sulla sua vita privata anche a quelle indiscrete grazie alla voce dell'attore Giampiero Bartolini e al lavoro d'equip dei ragazzi che hanno lavorato al progetto è stata un'opportunità unica perché oltre a le esercitazioni che magari facciamo in classe vedere un progetto che mette proprio in pratica realizzando ad esempio un'opera del genere Dante poi assolutamente sì sono stato a lavorare giorno e notte e quindi il risultato è soddisfacente speriamo che questo progetto col passare del tempo assuma sempre più importanza nelle scuole soprattutto come formazione nell'ambito lavorativo due anni di lavoro anche d'estate per i ragazzi del Dipartimento di Lettere Informatica Elettronica e i loro docenti e il risultato strabiliante è stato un invito prima a Catania per Didacta fiera dedicata al mondo della scuola e ad Orlando negli Stati Uniti per il Mac and Fair l'idea è nata in prossimità dei famosi 700 anni dalla morte di Dante anche la nostra scuola aveva voglia di omaggiare il sommo poeta in qualche modo e ha scelto il modo più vicino e più affine diciamo così all'indirizzo alla vocazione del nostro istituto che è quella tecnologica e quindi abbiamo provato a far sì che le due aree quella umanistico letteraria e quella invece più tecnologica tecnica potessero confluire in un unico grande prodotto Dan Troide rappresenta non solo un successo per il Marconi Tutto ma anche un riscontro gratificante per chi ha avviato questo progetto con l'idea di valorizzare le eccellenze della scuola e abbattere i muri tra le diverse discipline io non potrò mai dimenticare quel giorno 15 giugno 20 giugno una roba così in cui i ragazzi vennero da me a chiedere mi scusi preside ma possiamo stare anche di pomeriggio ha 74 anni e ha conseguito la sua non laurea stiamo parlando di un record e lo ha battuto l'isernino Michele Carmosino che si è laureato in medicina e chirurgia all'Università La Sapienza di Roma un traguardo frutto di tanto impegno e di tanta passione ha detto Carmosino ai nostri microfoni nella vita non si smette mai di imparare nessun detto è più calzante per descrivere la storia dell'isernino Michele Carmosino che all'età di 74 anni si è laureato in medicina e chirurgia all'Università La Sapienza di Roma quella conseguita di recente da Carmosino è solo una delle sue nove lauree un record tutto molisano che nasce dal conseguimento del titolo in ingegneria da lì Michele non si è più fermato per una sorta di avventura mi schissi a giurisprudenza e feci il primo esame e dissi giusto per farlo pure 18 va bene invece mi capitò di prendere 30 e allora ho detto ma se ho preso 30 al primo perché non devo prendere 30 a tutti gli altri e così via poi insomma scienze politiche poi volevo fare sola dell'arte però ho fatto il test a medicina l'ho superato e dico vabbè proviamo medicina tanti gli auguri ricevuti per il traguardo storico Michele dedica il risultato alle sue persone più care Paola mia moglie che mi ha accompagnato per non tutti gli anni che meritava e che meritavamo di vivere insieme adesso naturalmente il pensiero va alle mie due figlie magnifiche anche loro molto molto brave negli studi si sono fatti onore e a mia madre con la discussione della sua ultima tesi di laurea sulle performance cognitive Lisernino corona un altro dei suoi sogni tutto questo è frutto di tanto impegno e tanta passione dice e Michele non si vuole fermare se si è fatto 9 si può fare anche 10 c'è rimasto poco ho fatto pure un giro per le segreterie ora mi conoscono tutti dice guarda aspetta un anno che se mettiamo qualche altro corso ed è tutto per questo appuntamento con 7 giorni di cronaca grazie per averci seguito appuntamento a domenica prossima buona domenica